Questo pomeriggio si è riunito il COC e abbiamo deciso di mantenere aperte le scuole di ogni ordine grado. C'è una riunione in prefettura proprio in questi minuti, pertanto eventuali comunicazioni differenti saranno subito comunicate tramite i nostri canali social e il sito internet del Comune di Fano, ma al momento le scuole domani rimangono aperte. L'allerta è in stato di attenzione, quindi significa massima attenzione da parte di tutti, delle istituzioni per la quale il COC rimane aperto in continuo aggiornamento, ma anche da parte dei cittadini. Quindi al momento è prevista abbondante pioggia per domani, questa notte tutta domani mattina fino anche ai giorni prossimi e abbiamo deciso tutti insieme di mantenere le scuole di ogni ordine grado, naturalmente appunto con la soglia di attenzione. Inoltre come polizia locale insieme alla protezione civile precederemo i ponti sia dell'Arzilla che del Metauro, insieme anche alla regione Marche e abbiamo previsto il turno notturno della polizia locale che rimarrà insieme a tutte le altre forze di polizia aperta per eventuali segnalazioni che i cittadini riterranno opportuno fare.